Ci troviamo all'interno della track di Mark & Bike e Servizi Granfondo.com Due realtà differenti, ma Loris Ducci, che vanno a braccetto come dimostrano anche i loghi uno a fianco all'altro che hai sulla divisa ufficiale. Esatto, sì. Diciamo che quest'anno siamo partiti con una novità, con una novità che era già in progetto l'anno scorso e abbiamo deciso proprio di dare dei servizi. Dare dei servizi significava creare un portale e creare un'attività e questa attività oggi si chiama Servizi Granfondo.com Nasce dal progetto del Mark & Bike Tour Operator e quindi oltre a prenotare l'albergo, dare tutti i servizi per quanto riguarda la logistica da oggi diamo anche altri servizi che sono tre e sono tutti tre eccezionali, comodi e anzi valutateli e prendeteli in considerazione perché vi aiutano. Il primo è il ritiro pacco gara. Noi l'abbiamo chiamato così perché come ritiro pacco gara lo diamo come servizio gratuito ai nostri clienti. Quindi noi ci preoccupiamo di ritirare il pacco gara e il nostro cliente viene a ritirare il pacco gara direttamente qui nel track. L'altro servizio è SOS ritiro pacco gara che è un servizio invece che viene dato a chiunque ci chiama. Noi sul nostro portale potete trovare il numero di telefono. Chiunque ci chiama in qualsiasi momento noi ritiriamo il pacco gara e saremo nell'area espositiva fino alle ore 22. Quindi non correte per strada, non rischiate la vita per andare a prendere un pacco gara, ci pensiamo noi. Ovviamente ha un costo, ma lo dico a un costo esiguo, a un costo importante perché sono magari dei soldi spesi bene e dico anche spesi bene perché il 50% di questo costo va in beneficenza. E questa è una cosa molto importante perché va donato, andrà diviso per ogni evento ovviamente e andrà diviso per la LILT, Lega Italiana Lotto ai Tumori in Oncologia Pediatrica, per la dottoressa Vennarini. E anche per il progetto, continueremo a seguire il progetto Io non crollo, del terremoto nelle Marche. Quindi lo sapete benissimo quello che è successo e quindi diamo ancora per quest'anno un sostegno. Questo scopo benefico fa parte, integrante, anche del terzo servizio. Esatto, sì. Il terzo servizio è praticamente quello delle cassette di sicurezza. Sarebbe il secondo servizio perché il ritiro pacco gara è dato come gratuito per il cliente e invece SOS pacco gara come primo servizio. Il secondo servizio è quello che diciamo adesso delle cassette di sicurezza, cioè noi abbiamo messo a disposizione delle cassette di sicurezza dove l'utente tranquillamente può portare i suoi documenti, la sua patente, cioè quello che è il telefonino, portafoglio. Noi abbiamo un modulo da compilare, lo mettiamo all'interno di una busta ermetica monouso, diamo un braccialetto di riconoscimento alla persona, comunque facciamo anche una foto del documento e rilasciando questo braccialetto praticamente ci garantisce che poi a rientro viene a riprendere il suo pacco gara, il suo, scusate, il suo materiale che ha depositato. E' tutto assicurato, quindi voglio dire non ci sono problemi di nessun genere, se succedesse qualcosa ma non succede niente perché abbiamo una persona di riferimento che farà proprio questo, che starà qui nell'area espositiva e invece la cosa più eccellente forse direi è il terzo servizio. Il terzo servizio io vorrei che lo descrivessi te perché credo che sia proprio un progetto condiviso ma insomma parlane te perché sei più tecnico. Ne parlo volentieri, grazie. I precedenti descritti così come quello di cui vado a raccontare adesso dimostrano, anche con il nostro abbigliamento che insomma siamo sul campo e vanno fatti offerti a tutti sul campo. L'ultimo servizio legato a Servizi Gran Fondo, Servizi Gran Fondo TV, questa è la novità. Nella novità perché siamo presenti in una lunga lista di competizioni, di manifestazioni, di gare, di punti e momenti di incontro su due ruote, con pedali ovviamente, e siamo quindi nella capacità di mandarvi in diretta sulla pagina Facebook di Servizi Gran Fondo.com e poi di utilizzare una parte di queste immagini per accrescere grandemente la visibilità attraverso una collaborazione con una trasmissione televisiva che si chiama A tutta bici che viene onda su Teleromagna e già questo dà una visibilità extra regionale, quindi l'Emilia Romagna, la Lombardia, tutto il Veneto, una parte anche delle Marche e poi attraverso altre collaborazioni a livello nazionale, quindi nello specifico un passaggio sul canale del Digitale Terrestre numero 160, un canale Italia, il giovedì alle 20, stesso giorno e stesso orario per un passaggio sull'821, canale 821, dalla piattaforma satellitare Sky. In più, una collaborazione con Bike Channel, anche su Bike Channel, sarà visibile a tutta bici, quindi saranno visibili le vostre immagini, le vostre interviste, la manifestazione, gli amministratori e naturalmente tutti coloro che espongono creando questi interessanti villaggi a bordo, ma non solo, della manifestazione. Ho detto bene, Loris. Preciso, meglio di così non si poteva. L'unica cosa è che l'abbigliamento sarà diverso da questo, ma faremo una cosa molto particolare perché ci tengo all'immagine. Va bene, facciamo... Grazie, accetterò volentieri, sebbene mi senta particolarmente a mio agio, devo dire, sto al calduccio, sto benissimo. Facciamo anche proprio una mano di conti, tra le pagine facebook di servizi granfondo.com, i mark and bike di a tutta bici, sommiamo le visibilità settimanali medie, più quelli che sono i dati Auditel, quindi ufficiali di Teleromagna, dei due canali precedentemente descritti e di Bike Channel, sfioriamo le 100.000 visualizzazioni. Quindi offriamo un numero davvero importante di persone che potranno vedere la manifestazione, con i momenti salienti, ascoltare le interviste principali, eccetera, eccetera. Mi pare che sia un numero davvero molto molto consistente, qualcosa che, non so, probabilmente è difficile da imitare in questo momento. No, no, sono numeri importanti, sono numeri che gli organizzatori devono tenerne conto perché se vogliono promuovere il loro evento, a parte che possono chiamarci, quindi noi in qualche modo organizziamo e anzi stiamo già promuovendo gli eventi del circuito Romagna Challenge, e siamo in una delle manifestazioni del Romagna Challenge, saremo presenti a tutte queste manifestazioni con il nostro track, torno a ripeterlo, e tutte le attività che facciamo, mi piacerebbe che anche loro stessi comunicassero questa disponibilità, perché dare un servizio con le cassette di sicurezza e tutelare anche il corridore, anche l'atleta che partecipa, quindi non sappiamo benissimo che i tempi sono quelli che sono, cioè ogni volta che c'è un evento ci sono 10-15 macchine rotte, aperte, perché vanno a prendere dentro, portano via tutto, quindi noi cerchiamo di darvi, diciamo, una mano, ma non al ladro, cioè noi vi diamo una mano perché è un servizio molto, io ritengo che sia un servizio molto importante, ci ho investito e secondo me vale la pena. Nello stesso tempo abbiamo anche degli sponsor qui dentro, che comunque chiunque, se vuole, può promuovere tramite la televisione che abbiamo qui, la promozione che faremo anche qui dentro, quindi parliamo anche di territorio che è molto importante. Noi siamo rappresentanti della provincia di Pesaro e stiamo ovviamente in giro per l'Italia, facciamo anche promozione, quindi diciamo, lo possiamo fare per tutti, non è che abbiamo proprio il vincolo di farlo per, lo facciamo per tutti e lo vogliamo fare in modo sereno, tranquillo e far vedere esattamente quali sono le cose che abbiamo noi, soprattutto nel nostro territorio, che è la provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo un progetto in essere con l'Unione dei Comuni, l'ex comunità montana del Catre e del Nerone, adesso si è allungata anche, si è estesa, diciamo anche un po' su tutta la parte dell'Appennino, quindi Nerone, Catre, Petrano, produttori, cioè chi più ne ha più ne metta e se vogliono far promozione noi siamo a disposizione. Un'ultimissima domanda, l'impressione anche, ascoltando le tue parole, che non si è percepito come un lavoro, in termini qualitativi e di riuscita sì, ma in realtà è un gran divertimento. Sì, esatto, cioè è da una passione, nasce da una passione. Io, cioè noi, io dico io perché sono io qui adesso e anzi voglio ringraziare Fulio e so che è anche una gran spalla, quindi per me è fondamentale la sua presenza. Sì, diciamo una passione. Io ho un team, una squadra, ho 50 ragazzi che fanno gran fondo, quindi è nato tutto da lì, è nato dal fatto che comunque inizialmente era un gioco, sai, difficoltà lavorative, dei ragazzi che avevano bisogno di lavorare non c'era più lavoro, quindi ci siamo inventati questo, diciamo, progetto che non era ancora consolidato perché non aveva niente di ufficiale, ma era solo, è stato solo un periodo per vedere se funzionava o meno. Quindi questi ragazzi si sono messi a fare le guide turistiche e abbiamo fatto diventare questo progetto Mark & Bike. Poi, molti lo sanno, Mark & Bike da lì poi è diventato servizi gran fondo e poi siamo diventati servizi gran fondo tv. Chissà dove andremo, quest'anno abbiamo fatto questo nuovo track espositivo, io credo che sia a colpo d'occhio sia abbastanza carino, poi sarà ancora più bello quanto metteremo fuori i tavoli per fare le degustazioni, perché faremo anche degustazioni, quindi aperitivi, cioè cerchiamo di dare, di far conoscere il prodotto all'utente. Quindi ci troverete in tutto il circuito del prestigio, in tutto il circuito Romagna Challenge e ad altri eventi, e anzi, già stamattina ci sono stati dei nuovi contatti, ma non svegliamo niente e lo sveglieremo più avanti. Grazie, buon lavoro, buon divertimento. Grazie a noi, perché diciamo grazie anche a te e ricordatevi, diretta Facebook, alle partenze degli eventi e già stamattina abbiamo avuto un primo approccio con la ciclo storica, quindi siamo anche promotori dell'evento Giro d'Italia d'epoca, saluto Michela Piccioni e andiamo avanti. Alle prossime puntate vi racconteremo che cosa è successo.